Riva di Solto Le prime tracce di questa chiesa risalgono addirittura all'undicesimo secolo. Il paese dal ventesimo secolo ha visto un continuo fiorire di attività, metaturistica tra cui campeggi, bar, ristoranti al fine di valorizzare la riviera lacustre su cui esso si affaccia. Riva di Solto Ristorante Pizzeria 30 Passi, via 25 Aprile 1 Ristorante Pizzeria 30 Passi, via 25 Aprile 1 Ristorante Pizzeria 30 Passi, via 24 Aprile 1 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.